Allora, l'agenzia ha deciso di partecipare al SAIE quest'anno, in particolare per valorizzare le sue attività sui temi della digitalizzazione e del BIM. È un lavoro che stiamo svolgendo negli ultimi anni con molto profitto, molta energia e ci faceva piacere condividerla con gli operatori economici che lavorano con noi o che vorranno lavorare con noi in futuro. In particolare quest'anno presentiamo il progetto di patrimonio digitale che è il nostro processo di digitalizzazione interno e che lavora sostanzialmente con la trasformazione BIM di tutti gli asset dei fabbricati gestiti dall'agenzia del demanio che sono utilizzati dalle amministrazioni dello Stato.